Ti capita ogni tanto di avere quella voglia matta di dolce, ma non vuoi mangiare schifezze? Resta qui che ti racconto cosa faccio io quando succede a me. Prendo una tazza di arachidi e frullo per 5 minuti in modo che diventi un burro, che diventi cremoso. Se rilasci frullando meno tempo può darsi che rimangano dei pezzettini, quindi a te la scelta. Ci sono voluti, ci sono voluti, foro necessarios, anche meno di 5 minuti. A me i pezzettini non dispiacciono, in italiano quando a gente fala non dispiace qualcosa, significa che a gente non liga, che non si importa. Inclusive può anche significare che gosta. Non mi dispiace mangiare i pezzettini, cioè mi piace mangiare i pezzettini. Questi sono gli arachidi, arachidi, il nostro famoso amendoim, per i più intimi, amendoim, è più gostoso falar amendoim, né? Qua è diventato un burro di arachidi. E adesso guardate cosa faccio. Ho appena messo tutto dentro un contenitore. Pessoal, il contenitore è una vasiglia, è un nome ben generico, per adeser un lugar onde você guarda coisas, che contiene, né? Contiene delle cose. Então, è un contenitore. Prendo una tazzina, una tazzina di caffè. Sì, perché non bisogna esagerare in questi casi, no? E ci metto un cucchiaio di cacao amaro e un cucchiaino di miele. Questo miele è abbastanza scuro perché è un miele di castagno. Quindi qui dentro abbiamo miele e cacao amaro. Mischio, mischio, finché non si forma una crema. Adesso che è diventata una pappetta, miele e cacao amaro, ci metto un cucchiaio di arachidi. Di burro di arachidi. Mischio, 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 finché non diventi tutta una cremosità. E questo soddisfa completamente la mia voglia di dolci. E non sapete l'energia che ci dà. Avendo il miele, gli arachidi sono famosi, no? Per quante energie ci dà. Per me è come il nostro brigadero, però più salutare. Il nostro brigadero, il brigadero brasiliano. E poi mangio. Troppo buono. La rimanenza la conserva in luogo asciutto. E dura qualche giorno. Grazie. 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 Grazie a tutti.